E prosegue con la nostra Daria Sarkoš, movimentata, anche ben strutturata, il suo avvio, tra poco la votazione della Peranović. Intanto seguiamo la Sarkoš. 8.350 per Peranović, mentre Daria Sarkoš sta proseguendo la sua prova, ritmata, ha sfiorato la partecipazione degli europei a Patrasso. E qui c'è una piccola sbavatura, vedete lì al lavoro le giurie, giurie che lavorano in tempo reale, friscono i dati poi al computer centrale. E alla fine vi ovviamente ricapitoremo le classifiche dell'individuale Juniores e Seniores, i primi tre posti. E anche ovviamente la classifica a squadre, che guardando il lotto dei partecipanti ha già un'impronta di classifica probabile, se vogliamo pronosticare. Ci sono delle numero uno in gara. Intanto finisce Daria Sarkoš.